Ciao creatura, io sono Eccati Splendente, benvenuta o bentornata nel regno di Guzai e S.M.A. E come letto dal titolo, oggi andrò ad assaggiare le tre cose, nel mentre ho rotto il treppiedi, quindi chi ci vuoi? E se mi vedi un po' scazzata è per quello, ma dettagli, andrò ad assaggiare i Maltesers, non so come si leggano, comunque sono edizione di Pasqua perché c'è il coniglietti, c'è, sono marca KitKat e c'è il coniglietto al cioccolato, al latte e il coniglietto al cioccolato bianco, buonissimo, io adoro, ma all'interno non so come sia fatto, se ci sarà l'interno del KitKat oppure no, vedremo. E poi andrò ad assaporare questa specie di Fonzis spagnolo o messicano, dice gluten free, vabbè, è fatto col mais, questo mi conviene mangiarlo in fretta perché scade il 27.06, quindi lì lì insomma ecco, adesso questo video lo sto girando il 15 giugno, però tu lo vedrai molto più avanti, e niente, questo è il sabor original, è il gusto originale, quindi andiamo alla base di tutto e poi andrò ad assaggiare più avanti gli altri gusti perché ho il gusto ketchup e il gusto che mi tengo per ultimo, quello piccante. Che sicuramente è il più buono. L'ho già aperto, mi sono sbagliata, non sto capendo niente, comunque il profumo è buonissimo, no, volevo mangiare prima il dolce. Allora, andiamo a... ho rotto il costo, mi sono incasinata, pensavo di aver preso 4 prodotti da assaggiare, poi invece ne ho presi 3, poi ho rotto la... questo qua adesso io non so come fare perché l'ho comprato a Lidl, non lo ritroverò mai più, si fa 10 anni fa a Lidl l'ho comprato, e da adesso non ho soldi per ricomprarlo, quindi cercherò di accroccarlo in qualche maniera. Poi, che altro? Volevo mangiare prima il dolce, ho aperto il salato, sto impassendo, troppo caldo, questa luce fa troppo caldo, sarà per altre cose, ma sto perdendo la testa. creatura? Vabbè, andiamo ad assaggiare quello che mi fa meno voglia, ovvero quello al cioccolato al latte. Vediamo che se con questo caldo ha mantenuto la forma del coniglio. Ebbene sì, il profumo ha mantenuto le sue sembianze di creepy rabbit, o no creepy rabbit, adesso andrò a mangiarti. Sulle zampette c'è scritto KitKat, non so se si vede, mi si sta scegliendo in mano, quindi andrò a mangiare. Sulle zampette c'è scritto KitKat, non so se si vede, mi si vede, mi si vede, mi si vede. Ha qualcosa di croccante dentro, credo sia del riso soffiato. È buonissimo però. Dal modo in cui esplode in bucca sempre il riso soffiato. Anche dal suono. Sì, ma c'è scritto troppo, è piccolo. Non faccio le leggere. Allora. Non riesco a leggere. Vabbè. Assaggiamo quel cioccolato bianco che è Maltesiers Mini Pannies White. Così dice la confezione. Allora, il coniglietto bianco è diverso, non ha né le zampette con la scritta, neanche la foccia, non ha nulla. Molto più minimal. Sembrerebbe che abbia un interno diverso. Oddio, è buonissimo. Oddio, è buonissimo. Vabbè. Beh, io adoro il cioccolato bianco, perché è tutto puro. Buonissimo. A parte che il cioccolato bianco e il cioccolato al latte È un gusto totalmente diverso Quindi sembrano due cose totalmente diverse Ma l'altro era molto più crunchy Questo invece aveva un interno morbido Di non so cosa Perché alla fine si sentiva solo il cioccolato bianco Però buonissimo, wow Andiamo ad assaggiare queste rischettos Che swag In realtà c'è Il nerd Il frecchettone L'uomo d'affari E la cantante E fanno vedere che chiunque tu sia Puoi mangiare questo snack Capito? Te lo sto già pubblicizzando senza sapere nulla E quindi Senza glutine Sono praticamente un misto tra Fonzis e i Non i doritos, come si chiamano? E che cacchino che ne trovo scrivo Oggi io proprio va così Che video assaggio brutto Che sono come i fonzis Che sono come i fonzis Però sono arancioni Non lo stiamo scherziamo Sono arancioni ma non florescenti come quelli americani di cui non mi ricordo il nome Che tra l'altro mi piacciono un sacco Le cheetos Le cheetos Le cheetos Assomigliano ai fonzis Ma il gusto è totalmente diverso Cioè Assomigliano ai fonzis Perché sono di questi bastoncini Chiamiamoli così Di mais Quindi di base Quello però è il polverino ovviamente che cambia E sa da Sa da qualcosa che ho già mangiato Sono molto salati Buoni A parte che ho appena mangiato cioccolato bianco Quindi qualsiasi cosa È molto salata In confronto Vorrei cercare di ricordare che ho già sentito questo gusto Mi viene in mente Buonissime comunque Sanno anche di olio di mais Sono buoni Forse pian piano ci sto arrivando Devo mangiare tutto il sacchetto probabilmente Non perché sono buoni Ecco mi è arrivato Mi è arrivato un testo Hai presente quello snack molto duro Di quel mais tipo tostato Con la polverina Salato Marroncino Barra arancione Cos'è sto rumore bruttissimo Sono degli snack di mais Che sono super duri Che ti spacchi i denti Però sono buoni E sono come proprio Dei chicchi di mais Si chiamano chicchi Sì Mi viene in mente Una cosa gonfia di aria No Che c'è E quindi Buoni Eh sì sono proprio di mais Salato Ecco perché Forse c'erano i pop corn Disegnati Un po' ricordano i pop corn Effettivamente Sì Perché è sempre mais Ok Sappiamo tutti come andrà a finire Io mi finirò tutto il pacchetto Quanti grammi sono È molto più grande Di un pacchetto di Fonzis Penso di sì Anche se Sia in lungo Di Fonzis È più quadrato Non c'è scritto Vabbè se c'è scritto Aiuto 120 grammi Speravo Mi prendessi Delle citos Ma a questo punto La prossima box La faccio io Decido io Cosa prendermi E E mi faccio Una mia mystery box Che per te è mystery Per me no E prendo le cose Che volevo assaggiare Tipo Vorrei prendere Però tutti dicono Che fa schifo Quindi non vorrei buttare i soldi Quel fantastico Famosissimo Formaggio Spry Gorgonzola Spry Che non è gorgonzola Perché è cheddar Però che ho visto In viaggio con Pippo C'era l'amico di Max Che diceva Gorgonzola Spry Che è la mia Tipo scena preferita Perché mi fa troppo ridere E Però Max è il figlio di Pippo È bellissimo Quei film D'animazione Se non l'hai mai visto Guardalo Vicini che fanno rumore Grazie Cioè Vorrei solo dirti Che sono Che sono Aspetto 9-12 del mattino Che cacchio E te da rompere le balle Fuori sotto la mia finestra Io mi chiedo Cioè Vabbè Prima di così Non potevo Perché dovevo prepararmi E fare tutte le cose Ho fatto anche un altro video Comunque Dicevo Roberta Scusami Roberta Se mi perdo sempre In chiacchiere Però Hai visto che ho fatto Prima il video assaggio Poi adesso sto parlando Quindi Il tuo video assaggio L'hai visto Ok Roberta Benissimo E Non mi ricordo Questo sto dicendo Ovviamente Perché La vicina Perché so chi è Che fa questo rumore Perché gli altri Lavorano Lei no E so che a casa Fa rumore E quindi Niente Andrò a mangiarmi Tutto questo pacchetto Molto probabilmente Sì Comunque Anzi Avrei visto Tempo fa Un video Dove dicevo Che stavo facendo Una dieta L'ho già fallita Mi sono già rotta Le balle Ok Adesso sto cercando Di mangiare Meno schifeste Vabbè Poi ho comprato La mystery box Però Alla fine Ho detto Chissà ne frega Non ce la faccio L'ho fatta poi Nel periodo Del preciclo Dove ho avuto Più fame Tutta la settimana In cui ho Più fame Tutti gli altri giorni Quindi Un pessima idea Comunque Sono stati gli ormoni A dettare Quelle idee Sono andata avanti Una settimana e mezza E poi dopo Basta Ho detto Non ce la faccio E adesso che so Che posso mangiarli Magari non li mangio Che problemi hai Ecco Finita Con problematiche Comunque Sì La prossima volta Quasi quasi Cerco Il quarto del sito E cerco io E scelgo io le cose Più o meno Andremo a spendere Gli stessi soldi Tra l'altro Che sono 6,90 euro Di spese Di spese American Crunch Metti una mano Sul cuore E mandami I prodotti Gratis No dai Me li compro Non ho problemi Oddio Economici Attualmente Un pochino Sì Però Facciamo finta Che stia andando Tutto perfettamente Quindi Io ti auguro Buonanotte Buon relax Ciao Creatura Che stia andando Che stia andando Grazie a tutti.